Bene, continuiamo. Il racconto del mito. Eravamo rimasti ad Arianna, abbandonata da Teseo vittorioso sul Minotauro, durante il viaggio di ritorno da Creta verso Atene. Arianna, abbandonata mentre dormiva sull'isola deserta di Nasso, al suo risveglio piange e si dispera. Arianna svegliatasi tutta sola iniziò a piangere finché le apparve il dio Dioniso che la consolò promettendo di vendicarla. Qua abbiamo un'immagine di un pittore ottocentesco che ci presenta Arianna, consolata dal dio Dioniso. Dioniso è bacco, anche chiamato il dio del vino, dell'ebbrezza. Si dice in alcune versioni del mito che fosse stato lui a convincere Teseo ad abbandonare la fanciulla perché invaguitosi di lei. E quindi Dioniso sarebbe poi comparso a consolare Arianna, la quale però era con il cuore spezzato e furiosa e avrebbe chiesto vendetta per l'affronto subito da Teseo. E gli dèi effettivamente le concedono questa vendetta. Poseidone, infatti, il dio del mare, adirato contro Teseo, inviò una tempesta che squarciò le vele bianche della nave. Se vi ricordate, Teseo aveva promesso al padre di hissare, di innalzare vele bianche sulla nave se avesse avuto successo. Ma la tempesta distrugge le vele bianche che Teseo aveva già fatto hissare e quindi l'eroe è costretto a sostituirle con le vele nere che gli rimanevano di scorta. Secondo un'altra versione, invece, gli dèi, per punire Teseo del fatto che aveva abbandonato la povera Arianna, come punizione, appunto, annebbiarono la sua mente, facendo sì che egli si dimenticasse di cambiare le vele e lasciasse quelle nere con cui era partito. Insomma, sta di fatto che Teseo ritorna ad Atene, a casa, con le vele nere hissate. Il padre, Egeo, che lo aspetta, ansioso e trepidante, dall'alto della rupe all'orizzonte, vedendo che la nave, essa vele nere, convinto che il figlio avesse fallito e fosse morto, per la disperazione, si gettò in mare. E quel mare, da lui, proprio dal re Egeo, prese il nome e si chiama, infatti, ancora oggi, Mare Egeo. Ed ecco che il mito, a questo punto, ci dà anche una spiegazione del perché questo mare si chiama Egeo, e quindi diventa quello che viene chiamato un mito eziologico, cioè da Aitia, che ci racconta la causa, un perché di qualche cosa, in questo caso, perché il mare Egeo si chiama così. Teseo, dunque, rientrò ad Atene vittorioso, ma non poté mai più riabbracciare suo padre. Abbiamo un'immagine di questo momento tragico. E così finisce il mito del Minotauro, che ci dà però molti spunti di riflessione e si ricollega a moltissimi altri miti. In particolare, vorrei soffermarmi su alcuni elementi simbolici a cui ho già accennato durante il racconto. Minosse, vi dicevo, è il mitico re di Creta, ma in generale alcuni sostengono che Minosse fosse più che un nome proprio, un titolo, come dire sovrano, come dire re, e quindi identificasse il re di Creta in generale e non un re di Creta in particolare, cioè identificasse in sostanza la carica di tutti i re di Creta, quindi l'autorità del sovrano. Autorità che poteva essere messa in discussione e per la quale egli aveva chiesto agli dei un simbolo, il toro, come a dire, che veniva apprezzato e riconosciuto. Il toro deriva probabilmente appunto dai giochi con il toro, che venivano svolti frequentemente a Creta e anche poi in Grecia, ed è un simbolo divino che rappresenta il favore degli dèi. Il labirinto, ispirato probabilmente alla pianta molto movimentata, molto complessa del palazzo di Knosso, rappresenta la grandiosità dei palazzi cretesi, palazzi enormi, non fortificati, pieni di mille stanze, che quindi ai greci, che andavano magari a Creta per commercio o per pagare appunto le tasse, sembrava qualcosa di straordinario, provocando in essi estremo stupore. E quindi l'hanno chiamato appunto labirinto, un luogo dove è facile perdersi. Per fare un riferimento al mito del labirinto, al suo significato simbolico, pensate che il labirinto è un simbolo molto importante, anche nel medioevo cristiano, nel quale diventa proprio l'emblema, il simbolo del cammino dell'uomo sulla terra, quindi un percorso con mille errori, un vagare a volte non si sa verso dove, con mille vicoli ciechi, che rappresenta però la continua ricerca dell'uomo verso l'uscita, l'uscita del labirinto in genere. Se guardiamo questa immagine ad esempio, in genere passa poi per il centro e poi si va all'uscita, questa non è proprio identica ma riprende in parte l'immagine, la forma dell'enorme labirinto che si trova sul pavimento della cattedrale di Chartres, quindi vi dico un simbolo del medioevo cristiano, perché indica il cammino tortuoso, complicato dell'uomo sulla terra alla ricerca della salvezza, alla ricerca di Dio. Quindi in questo caso sono labirinti antichi, abbiamo ad esempio qua proprio il minotauro al centro, chiuso qua dentro, quindi gli aspetti istintuali e bestiali chiusi, mantenuti chiusi in questa sorta di gabbia, però viene riutilizzato come simbolo appunto nel medioevo cristiano. Così come la stessa figura del minotauro, questo mostro, viene riutilizzato ad esempio, viene ripresa da Dante che lo mette nella Divina Commedia, lo colloca come uno dei mostri infernali. Quindi, continuando ad effettuare collegamenti tra elementi del mito e il loro valore simbolico, ci si potrebbe soffermare a lungo sulla figura di Dedalo. È l'uomo che con la ragione, con l'ingegno e con la propria creatività, e quindi con le proprie capacità puramente umane, sfida la natura, crea una mucca di legno per Pasifai che sembra una mucca vera, crea un labirinto per tenere in gabbia chiusi gli istinti bestiali del mostro minotauro e quindi far sì che non crei danni. Dedalo poi è dedicato un mito a parte, avrebbe tentato di volare per innalzare l'uomo il più possibile vicino agli dèi, ma suo figlio Icaro, per il troppo entusiasmo, con queste ali unite da, in cui le piume erano unite da un collante, si sarebbe avvicinato troppo al sole, il collante si sarebbe sciolto e quindi Icaro sarebbe precipitato morendo. E anche questo ha un chiaro significato simbolico, l'uomo che vuole superare troppo i propri limiti, avvicinarsi agli dèi, fallisce. Ma questa è un'altra storia. Veniamo ora a Teseo, un mitico eroe dell'antica Grecia, al quale appunto sono dedicate moltissime altre storie, sempre orali, sempre tramandate da diverse fonti, per questo non vi ho inserito le fonti, perché sono numerose le fonti degli autori antichi, e poi sono miti tramandati in prevalenza oralmente, per questo ci sono diverse versioni. Ecco, Teseo rappresenterebbe l'eroe greco che uccide il mostro cretese, il mostro di Creta, e quindi, dal punto di vista degli eventi storici, simbolicamente, la fine del dominio di Creta sui greci, i greci antichi, che sono i micenei, li vedremo prossimamente, che nel frattempo stavano anch'essi sviluppando una civiltà piuttosto potente, che si impone come dominatrice del Mediterraneo, soprattutto Mediterraneo orientale, soprattutto dopo la fine della potenza di Creta. Bene, in ultimo, prima di salutarvi, vi propongo un'attività facoltativa sul mito del Minotauro. Avete una scelta, una prima attività, oppure un'altra, a seconda di quello che preferite. La prima attività è, si può dire, in parte, almeno parzialmente, di scrittura creativa. Vi chiedo di rileggere il mito del Minotauro, chiaramente, per rivedere alcuni punti che posso avere letto troppo velocemente. Scegliete poi un punto della storia in cui vi sembra opportuno fermarvi. E a partire da quel punto, potete fermarvi più verso l'inizio, o più verso la fine, o a metà, a quel punto continuate voi il mito. Scrivete voi una continuazione, inventando la propria versione del mito. Del resto, come vi dicevo, esistono numerose varianti dei miti antichi, come anche questo presenta numerose varianti, e moltissimi miti hanno ispirato poeti, scrittori, artisti, scultori, pittori, e quindi sono continuamente rivisitati i miti greci, perché il loro significato simbolico arriva diretto anche ancora a noi oggi. Quindi nessuno vieta di scrivere per noi, poi condividerla, farebbe piacere, una nuova versione del mito. Come alternativa, per chi non si sente eccessivamente creativo, è un'attività più storica, diciamo, in cui vi chiedo di rileggere, chiaramente, il mito del Minotauro, e collegare i vari aspetti del mito ad eventi e caratteristiche storiche delle antiche civiltà mediterranee, per esempio, il tributo, il pagamento, diciamo, di Atene a Creta, che dove Atene doveva mandare ogni anno sette ragazzi e sette ragazze in pasto al Minotauro, può rappresentare la sottomissione della civiltà greca alla civiltà micenea, nel periodo più antico, e ci sono altri elementi che chiaramente rispecchiano, l'abbiamo anche detto, rispecchiano eventi e situazioni della storia più antica.